Oggi a Uomini e Donne si è verificato un vero e proprio caos in studio. La protagonista indiscussa è stata Barbara De Santi, che ha annunciato improvvisamente di voler abbandonare la trasmissione a causa del comportamento di Vincenzo, che l'ha profondamente ferita. Nel frattempo anche Tina Cipollari si è scagliata contro il cavaliere scatenando una reazione accesa e un botta e risposta infuocato. Maria De Filippi ha cercato di mediare tra le parti contatto. Barbara ha espresso il suo disappunto per il comportamento insensibile di Vincenzo, che dopo aver risvegliato la passione in lei ha baciato un'altra ragazza come se niente fosse. Tina Cipollari ha supportato Barbara e ha criticato aspramente Vincenzo, definendolo inquietante e indifferente. Vincenzo ha reagito alle accuse, scatenando ulteriore tensione in studio. Maria De Filippi ha cercato di riportare la calma e ha sottolineato che entrambe le parti devono essere rispettate. Tina ha chiesto a Vincenzo se lo conoscesse abbastanza per giudicarlo, ribadendo il suo rispetto per tutti. La situazione si è risolta con un momento di silenzio dopo l'intervento di Maria. Il caos in studio di uomini e donne ha tenuto tutti con il fiato sospeso, con tensioni e accuse che hanno reso l'atmosfera incandescente. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Barbara e Vincenzo riusciranno a chiarirsi. Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news su tv, personaggi e gossip, continuate.